Robi ti devo dire una cosa, io potevo anche venire con te, però l'idea di stare da sola due giorni dopo tanto tempo un po' mi piaceva. Insomma, sono andata a cena fuori con Francesca e Silvia e poi la sera siamo andate a ballare in un locale, eravamo le più vecchie. E martedì mattina non sono andata a lavorare, mi sono presa un giorno e sono andata al mare con mia sorella e il bambino, io stavo benissimo e allora mi ha preso il panico, ho cominciato a farmi un sacco di domande, mi sono chiesta perché non mi mancavi, poi mi sono resa conto che tutte queste cose le ho fatte in due giorni, capisci? E il terzo giorno già mi mancavi da morire e il quarto, il quarto io non ne potevo più e oggi mi manca il respiro, sì, car avvocato, senza di te a me mi manca il respiro. Grazie a tutti.